Era il 10 febbraio del 1945 quando Giovanni Palatucci, ultimo questore di fiume, morì nel campo di sterminio di Dachau. Rondine, cittadella della pace dal 2021, ospita un olivo donato dalla questura di Arezzo in ricordo della sua figura, proprio accanto all'arena di Gianin, inaugurata in occasione dell'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. Sia la memoria di questo giusto tra le nazioni, sia il luogo, Rondine, lanciano un grande messaggio di pace, ma direi di pace possibile. E anche oggi, nell'anniversario della morte, nel Borgo è stata celebrata la sua memoria. Questo gesto che si ripete ogni anno ci fa sempre molto piacere e ogni anno, ahimè, sembra che ce ne sia sempre più bisogno per ricordare come ognuno di noi deve essere vigilante contro ogni forma di razzismo, di discriminazione, l'antisemitismo, ma anche l'islamofobia e tutte le altre forme che separano le persone. L'ulivo è un segno di pace e la Polizia di Stato celebra anche la prossimità nei confronti del cittadino e quindi opera anche in segno di pace nel ricordo di Palatucci. Giovanni Palatucci, da questore reggente di Fiume, salvò la vita migliaia di ebrei, italiani e stranieri sfidando le leggi razziali. La distruzione del materiale documentario riguardante gli ebrei e l'accoglienza delle richieste di mettersi in salvo testimoniano il suo coraggio incondizionato. Un gesto eroico pagato con la vita dopo essere stato deportato nel campo di concentramento nazista di Dachau. Morì a 36 anni, pochi mesi prima della liberazione del campo di sterminio. Impegno e responsabilità che è talmente tanto forte che non consideri rischi e quindi anche le estreme conseguenze. È un esempio, è un dovere di ricordo patrio rispetto a un momento straordinariamente drammatico della storia d'Italia che peraltro è venuto alla luce anche un po' in ritardo rispetto ad altri fatti ma che oggi fa parte dell'esperienza civica di questa nazione. Per le sue azioni eroiche dal 1990 Israele lo è inserito tra i giusti delle nazioni. Nel 1995 invece lo Stato italiano gli ha attribuito la medaglia d'oro al merito civile. Grazie.